la complicità e la passione ecco cosa ci tiene uniti ogni giorno piccoli gesti ci ricordano che c'è sempre una sorpresa per te a volte è proprio lì davanti ai tuoi occhi altre devi cercarla spesso possono farti sentire ancora più bella come in una favola ma solo se verranno dal cuore avranno davvero valore aggiungi un tocco di magia alla tua vita metti un po di fix